La chiesa di Santo Stefano, un luogo identitario per tutta la comunità, per tutta la nostra comunità, è oggetto di un ulteriore restauro. Il motivo? La Regione Puglia ha finanziato l'amministrazione comunale affinché restaurasse il tetto che necessitava di un intervento strutturale ormai da diversi anni. Il finanziamento non riguarda solo e soltanto il rifacimento del tetto, ma bensì va molto più in là. La Regione Puglia ha finanziato anche delle attività culturali che l'amministrazione ha inteso affidare ai ragazzi delle scuole. I ragazzi delle scuole saranno i custodi di questo patrimonio, nonché saranno i divulgatori di questa eccellenza soletana. Grazie a tutti! Grazie a tutti!